la presidenza diocesana della fuci San Gregorio VII insieme alla presidenza diocesana del Meic Don Guido Terranova e dalla presidenza diocesana di azione cattolica Salerno rende omaggio alla straordinaria figura di Don Giacomo Alberione l'editore di Dio beatificato da Papa Giovanni Paolo II nell'aprile del 2003 con la presentazione del volume appena pubblicato dalla casa editrice San Paolo il padre del futuro donna Alberione e la sfida del cambiamento scritto dal giornalista Rai Rosario Carello l'evento è in programma venerdì undici marzo alle ore diciassette presso l'aula consigliare della provincia di Salerno in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di questa straordinaria figura alla presentazione prenderanno parte il presidente della provincia Michele Strenese l'arcivescovo di Salerno Campagna Cerno Monsignor Andrea Bellandi il consigliere provinciale con delega alla cultura Francesco Morra il presidente diocesano del Meic Rocco Pacileo il presidente diocesano di azione cattolica Maria Vittoria Lanzara con l'autore Rosario Carello discuteranno il sacerdote paolino Don Roberto Ponti il giornalista Rai Pino Blasi e la testimonianza di suo Rita Mignosi delle figlie di San Paolo che ebbe modo di conoscere Don Giacomo Alberione ad introdurre a moderare sarà il presidente diocesano della FUCI Stefano Pignataro che sottolinea l'importanza di approfondire i grandi valori che Don Giacomo Alberione ha portato avanti come la buona stampa e la buona comunicazione l'iniziativa si inserisce in un fervido attivismo che l'associazionismo cattolico va riscoprendo nel comune capoluogo e che vede coinvolte le realtà del mondo universitario laicale in stretta sintonia con gli uffici della curia riocesana un modo anche questo di ritornare a vivere momenti di confronto e di crescita culturale sempre più necessari per superare le restrizioni dettate dall'emergenza pandemica e quale stimolo anche al cammino sinodale che ha intrapreso la chiesa in vista del giubileo del duemilaventicinque grazie a tutti